Eccoci qui vedete in questo angolo della struttura Fisioradi, carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, buona serata a tutti, è la palestra di riabilitazione dove i fisioterapisti accompagnano i pazienti nel loro percorso per riprendere la funzionalità. Questa sera parleremo con un fisioterapista, un giovane fisioterapista che da qualche anno a Pesano in realtà è originario del sud Italia, di Taranto, si tratta di Andrea Valentini che ci parlerà della patologia legata all'anca. È una patologia che tanti temono, che tanti in qualche modo nella vita si trovano a dover affrontare, sono cambiate tantissime cose sia dal punto di vista medico ma soprattutto dal punto di vista della fisioterapia, quindi Andrea Valentini davvero ci darà un grande panorama sulla situazione riguardo alla patologia dell'anca. Grazie a tutti. Eccoci in studio con Andrea Valentini, fisioterapista specializzato in tante branche della sua specializzazione, della sua disciplina. Andrea benvenuto. Per me è un onore essere con voi oggi e sono contento di poter portare un po' di novità nel mondo della riabilitazione e della medicina, soprattutto lavorando qui a Fisiradio ho avuto modo di vedere un po' le novità rispetto a quello che accadeva nel passato e di come si sta evolvendo sia il rapporto tra il fisioterapista e il medico sia il rapporto tra il fisioterapista e il medico e il paziente. Quindi sono contento oggi di affrontare un argomento ma in realtà di far vedere un po' alle persone come stiamo andando e progredendo passo passo con l'avanzare dell'età biologica, con anche le nuove condizioni fisiche che interessano i pazienti e di come stiamo contrastando questo evento crescente con innovazione e tecnologia. Infatti non a caso Fisioradi, la struttura che ci ospita, l'abbiamo detto più volte, è intesa la multidisciplinarità fra le pratiche mediche, quella della fisioterapia è una delle più importanti, parleremo specificamente di Anca e di malattie degenerative legate all'Anca. Tutti o quasi, prima o poi, incorriamo in problematiche di quel tipo, quindi Andrea Valentini ci aiuterà a capire cosa sta succedendo nell'evoluzione di questa patologia? Beh, ha detto bene in quanto le patologie degenerative in generale interessano quasi 5 milioni di persone in Italia e a livello globale siamo intorno al 5-6%, quindi sono numeri molto importanti. È anche vero che l'età biologica, se da una parte per fortuna sta crescendo, dall'altra non fa altro che manifestare più facilmente, far manifestare più facilmente questo tipo di condizioni che sono degenerative. L'Anca è l'articolazione più interessata dal punto di vista biomeccanico, ortopedico e fisioterapico nei fenomeni di degenerazione, tant'è che si parla di coxartrosi. Per coxartrosi si intende un processo di degenerazione dell'Anca e per Anca si intende il rapporto tra la testa del femore e l'acetabolo a livello dell'Anca. Quindi è un'articolazione molto importante perché ci mantiene in piedi, ci permette di camminare, ci permette di fare anche sforzi che sarebbero difficili da immaginare senza la possibilità di poter muovere la gamba o muovere il bacino. Quindi è anche facile immaginare come una patologia di questo tipo possa essere molto invalidante per le persone. Basti pensare che un processo degenerativo a livello dell'Anca porta a una riduzione in generale del movimento ma anche a compiere gesti quotidiani come alzarsi dal letto, fare le scale, fare una corsetta, una camminata, salire su una bici. Quindi man mano che la patologia va avanti aumentano le limitazioni e il dolore. In particolare la coxalgia riguarda la regione anteriore, quindi avanti dell'Anca, la regione inguinale, davanti alla coscia, in alcuni pazienti anche la regione dei glutei, a livello di dolore. Ma la cosa importante è la limitazione funzionale. Quindi le persone vedono che man mano vanno avanti con la proprietà una riduzione delle capacità di vivere una vita... Di mobilità normale proprio. Esatto, di mobilità, di fare una vita normale. Questo è dovuto alla continua degradazione, alla continua usura della cartilagine dentro l'articolazione che non è altro che una sorta di ammortizzamento, una forma di protezione che il corpo ci dona e che ovviamente ha una sua graduale usura. Un po' come fare il tagliando. Diciamo che un po' nel passato l'approccio era principalmente quasi unicamente chirurgico e quindi si facevano questi vistosi tagli, probabilmente ne ho visti anche alcuni, di questi soggetti che avevano queste grosse incisioni lungo la coscia, con queste ferite vistose. Durante l'intervento c'erano grosse perdi tematiche, c'erano anche complicazioni dovute a un taglio di quella entità, le protesi non erano nei materiali attuali e la riabilitazione diventava molto molto complessa. Poi c'è stata una evoluzione che ha portato chi si accorge di soffrire di questa cosa sinceramente a poterla affrontare in maniera migliore. Esatto, esatto. Dato che c'è stato un aumento anche della richiesta da parte del paziente, il mondo della medicina si è mobilitato per capire cosa possiamo fare nei confronti dei nostri pazienti e soprattutto visto l'ampio numero in crescendo di questo tipo di condizioni e quindi come attuare un percorso terapeutico efficace. La fisioterapia ha dato una sua risposta con sia tecniche di prevenzione sia con tecniche di riabilitazione. Quindi abbiamo integrato nei percorsi riabilitativi l'idrochinesi terapia che è fondamentale sia per la riduzione del dolore sia per l'aumento della mobilità. Dei percorsi uno a uno con il paziente che permettono di recuperare il tono muscolare, di favorire ovviamente la mobilità articolare e una riduzione dell'infiammazione e del dolore. E la medicina ci ha accompagnati, anzi ci ha preceduti in questo senso con un approccio che ovviamente mira alla riduzione del dolore e al migliorare la mobilità. Per esempio ci sono le infiltrazioni di acido ialuronico e il nostro tessuto di ammortamento, di cartilagine ha nelle sue componenti l'acido ialuronico. Quindi è un po' un mettere in sintonia il corpo con le proprie funzionalità. E inoltre le terapie di tipo antinfiammatorio e antidolorifico sono state anche mirate a quel tipo di condizione. Quindi l'approccio combinato tra un primo lavoro dal punto di vista antinfiammatorio, antidolorifico, le infiltrazioni, gli antidolorifici, combinato a una fisioterapia sicuramente preventiva anche perché questa patologia in alcuni casi può colpire anche i giovani. Quindi non è una cosa strettamente legata all'avanzare dell'età. Certo, abbiamo esempi magari anche infatti importanti di sportivi che per problemi alle cartilagini hanno dovuto rinunciare o interrompere carriere in età precoce. È stata molto interessante una cosa che ha detto riguardo all'acido ialuronico. Quindi l'acido ialuronico in realtà è importante perché va a compensare mancanze a livello di cartilagine. Esatto. Tra le componenti della cartilagine c'è l'acido ialuronico, ci sono acqua e altre componenti fondamentali che già il corpo produce ed è a tutti gli effetti una forma di scudo che circonda la parete ossea e funziona da ammortizzatore. Quindi se c'è un graduale declino, una graduale usura di questo tessuto, c'è anche una graduale riduzione della quantità di acido ialuronico. Quindi è fondamentale avere in equip dei medici ortopedici specialisti che siano non solo in grado, ma anche siano diciamo pronti alle richieste del paziente e eventualmente a fare questo tipo di terapia. Quindi ovviamente questo approccio così completo da un punto di vista medico, da un punto di vista fisioterapico, ovviamente porta grandissimi vantaggi nella cura di una persona che soffre di dolori all'anca. E quando si arriva alla protesi? Diciamo che l'intervento di tipo conservativo attualmente, ed è uno dei grossi vantaggi moderni della medicina, fortunatamente riesce a coprire una vasta percentuale di popolazione. Sta di fatto che è ovvio che in pazienti che abbiano una grossa, quindi una lesione massiva di questi tessuti, abbiano una enorme difficoltà poi a, diciamo, riuscire a lavorare come si dovrebbe in maniera conservativa, in un approccio conservativo. Quindi nel caso in cui l'approccio conservativo non sia stato in grado, o comunque non sia stato sufficiente a permettere una qualità di vita migliore al paziente, il medico ortopedico specialista individua nel paziente la possibilità di un intervento chirurgico. E anche qui abbiamo grosse novità dal punto di vista operatorio e soprattutto anche nel post-operatorio. Abbiamo una tecnica di chirurgia che è stata applicata negli ultimi anni che prevede proprio una mini incisione e aiuta in tutto ciò sia nel prima e nel dopo il paziente a riprendere la propria vita quotidiana. Anni fa si utilizzavano delle tecniche di approccio al taglio posterolaterali, quindi leggermente più verso il gluteo o proprio posteriori, quindi sul gluteo, che comportavano il distacco del muscolo grande gluteo e notevoli perdite ematiche. Quindi il paziente al risveglio dell'intervento aveva una gamba che era praticamente quasi assente, ipomobile, quindi poco funzionale, poco mobile, molto dolorosa, con dei tagli vistosi e inoltre c'era il muscolo grande gluteo, che è quello che ci permette poi di camminare, che era stato reciso e poi riattaccato. Quindi la recisione e poi il riattacco di un muscolo comporta notevoli conseguenze per il paziente. Ed è ovvio che la riabilitazione aveva anche una durata che si poteva estendere a 8-9 mesi, addirittura a volte a un anno, perché bisognava recuperare prima le condizioni generali del paziente e poi gradualmente tentare man mano di vedere dove ci si poteva spingere, ma comunque erano percorsi molto lunghi. Oggi siamo in grado di ridurre quasi della metà queste tempistiche, ma soprattutto i primi vantaggi li vediamo già nel post chirurgico. Nell'immediato. Andrea Valentini, grazie anche perché tanto spesso si sente parlare di anca e di doversi confrontare con una patologia legata all'anca, sicuramente ci ha spiegato che con quello che abbiamo raggiunto oggi a livello di medicina e di fisioterapia si può avere meno paura. Grazie a voi e sicuramente avremo modo di approfondire altre tematiche che sicuramente interesseranno le persone che ci ascoltano. Grazie ancora Andrea Valentini e buona serata a tutti. Grazie a tutti.